Mercoledì della tredicesima settimana del tempo ordinario. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi, Maria e Epicoco. Tutto quello che non possiamo controllare tendiamo ad escluderlo o a smontarlo nel suo mistero, affinché non abbia presa su di noi. Forse per questo negli ultimi secoli abbiamo cominciato ad approcciarci al male pensandolo solo in chiave simbolica e non in chiave reale. Così gli esorcismi raccontati nel Vangelo non li abbiamo più considerati fatti di cronaca, ma solo modi attraverso cui gli evangelisti volevano far passare un messaggio. Il male è un fatto, e lo è in una maniera tremenda. Gli esorcismi raccontati nel Vangelo non sono certamente messi lì come articoli di giornali, ma sono raccontati a partire da fatti veri accaduti nella vicenda di Gesù. Certamente chi li racconta li inserisce in una lettura teologica, ma credo che il Vangelo, prima di ricordarci cosa Gesù può contro il male, voglia ricordarci innanzitutto che il male esiste. La prima vittoria del male è farci credere che tutti i nostri problemi sono solo paturni di uomini o tra uomini, questioni solo di pensieri, errori o ferite. Il male esiste e lavora costantemente contro di noi. Prima lo accettiamo, e prima permettiamo a Cristo di combatterlo in noi. E per noi, nel racconto di oggi, esso si manifesta come una violenza che sbara la strada. Erano tanto furiosi che nessuno poteva più passare per quella strada. Molte volte nella vita ci sembra che la strada sia sbarrata oltre le nostre forze. Dobbiamo allora ricordarci che Cristo può liberare ogni strada e può trasformare la fatica di un ostacolo, anche se il demonio ammetterlo, in un modo di santificarci, di farlo concorrere al nostro bene. Il male può sbarrarci la strada, ma non può fermare il nostro cammino. L'amore di Dio, che ci arriva attraverso Cristo, ci aiuta a trasformare ogni tentazione in occasione, ogni ostacolo in opportunità, ogni chiusura in trampolino di lancio. Cristo non solo ci libera dal male, ma ci libera anche nonostante il male. E' questo quello che il male non comprende, motivo per cui non si accorge che, molte volte, invece di distruggere, fortifica.